Come superare al meglio il periodo di prova di un nuovo lavoro? Bella domanda, per chi non lo sapesse, tipicamente quando si inizia a lavorare c'è sempre per contratto un periodo di prova, tre mesi mediamente. Si cerca di toglierlo quando si cresce, no? Nel senso che quando ti muovi poi a funzioni più avanti il periodo di prova non te lo fai mettere in contratto, però tecnicamente il periodo di prova è proprio il ci siamo sbagliati, stretta di mano, via. Sperando che non ci siano situazioni in cui l'azienda lo usa per altri fini. Però in teoria se lavorate sulla lunga distanza, cioè se state facendo il gioco lungo, il periodo di prova sono semplicemente i primi tre mesi del vostro lavoro. Quello che io consiglio sempre è, all'interno del... sotto i miei video trovate sempre il link dei consigli di lettura, Comprate di Watkins i miei primi 90 giorni. Watkins ha scritto due libri molto interessanti, i primi 90 giorni... non sembrava altri libri... i primi 90 giorni e poi c'è la tua prossima mossa. Nei primi 90 giorni lui insegna quando inizi un nuovo lavoro, indipendentemente dalla signore, ci sono dei passaggi per strutturare questi 90 giorni che sono molto utili. Per esempio entrare, ovviamente fare una mappa delle persone, capire quali sono gli stakeholders, ma soprattutto fare un'analisi del mercato, l'analisi si chiama STAR, ora non entro... cioè non analisi del mercato, scusatemi, analisi della situazione lavorativa all'interno della quale entrate. è completamente diverso se state entrando per sostituire qualcuno che è andato via o qualcuno che sta andando in pensione o che andrà via tra un po', per cui avete la possibilità di fare handover, oppure è una nuova posizione per cui è qualcosa di completamente nuovo e dovete costruire, perché c'è un periodo di sovraccarico... Insomma, l'entrare in un'azienda può trovare davanti diversi scenari. Mi piace l'approccio di quel libro perché ti dà un metodo di attività da fare. Poi, attenzione, finito questo parliamo del mondo reale. Nel mondo ideale tu arrivi, vedi che cosa sta succedendo, capisci quali sono le procedure, segui il solco, crei network, crei relazione, cerchi di capire come si viene misurati, come funziona e via dicendo. Ti dai un po' di tempo per capire, poi fai delle analisi e ti fai un check con il tuo capo per dire qua mi sembra che sia una cosa in crescita, oppure se è una fase in rivoluzione del business, oppure una fase di consolidamento, oppure una fase di ricostruzione dopo uno scossone e dopo questo ci si confronta e quindi si inizia a capire quale può essere il piano d'azione. Il piano d'azione viene condiviso, è bellissimo, solo che invece che in 90 giorni tipicamente avviene tutto quanto in due settimane, tre settimane. Per cui il consiglio è, Gianluca, quando si inizia a lavorare in una nuova azienda, capite subito al più presto dove siete. Dove siete significa qual è il team, chi sono le persone, quali sono le esigenze, cosa ci si aspetta da questo ruolo. Capite il tipo di comunicazione e sta a te comunicare quali sono gli stakeholders, le persone con cui avrai a che fare. Il tuo è un compito di problem solver, testa bassa a fare determinate cose, oppure devi interagire tra più funzioni, oppure ti devi occupare dell'elaborazione di certi dati. Insomma, questo devi cercare di chiarirlo il più possibile. Considerate che molto probabilmente, perlomeno all'inizio, non dovrete inventare niente di nuovo, quindi quando parlo di solco, intendo proprio quello, cioè entrate molto probabilmente in un'azienda che è strutturata e quindi non avete un discorso di io arrivo e devo cambiare tutto quanto, devo fare tutto ex novo, ma seguirete quelle che sono le procedure aziendali, quelle che sono le attività, e quindi sarà molto più facile entrare nel solco e continuare a fare quello. Poi ovvio che il vostro contributo ci sarà, deciderete, però questo cercate un attimo di capirlo, per cui nel periodo di prova per me è molto importante avere una chiarezza di dove siete capitati, quali sono le aspettative, questo dovete chiederlo costantemente, mettete ogni settimana, ogni due settimane, dei momenti di feedback con il capo, chiedete feedback ai colleghi e poi può essere utile anche avere dei... no, può essere utile, sicuramente avrete per almeno il primo mese un bel po' di meeting uno a uno, cioè molto probabilmente avrete tantissime riunioni che sono state schiedulate dal vostro capo in cui parlate con il capo dell'altra riunione, il vostro collega, quella a destra e a sinistra, quindi imparerete a conoscere l'azienda. Quindi il periodo di prova cercate di superarlo in maniera rilassata, non aspettatevi di avere... in alcune aziende magari un po' più formali c'è un momento in cui ti dicono sì, tutto a posto è superato, in altre aziende è semplicemente un ah, sono passati tre mesi queste lettere di conferma, neanche te ne accorgi, dipende veramente dal contesto, però affrontate tutto come i primi tre mesi di qualcosa di più lungo in rilassatezza. Ok? Spero di aver risposto in maniera sensata alla tua domanda, Gianluca.